ciao ragazzi benvenuti di nuovo in questo nuovissimo video di brazo crew oggi sarà un brevissimo video giusto per mettere al corrente chi ancora non conosce questo veicolo se venite in questa località della mappa potete trovare questo camion può capitare di non trovarlo subito vi consiglio di fare avanti indietro per un po io l'ho trovato verso le 14 la sua caratteristica principale che è un camion anti proiettile come vedete sanumaga mi sta sparando e non mi ammazza quindi è una figata assurda potete andare in giro per la città a fare casino senza rischiare di essere uccisi da una pallottola vagante veramente bello è utile questo veicolo quindi ragazzi vi faccio il solito discorso se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace e mettetelo tra i preferiti per aiutare la divulgazione condividetelo su facebook su twitter e google più per far vedere anche i vostri amici se hai visto questo video e non sei ancora iscritto al canale fallo adesso così come farò altri video come questi sarete aggiornati questo è tutto un abbraccio e al prossimo video ciao ciao ciao